Ciao a tutti, oggi prepareremo il ciambellone stracciatella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, farina di tipo 00, zucchero, olio di semi di girasole, yogurt alla vaniglia, pasta d'arancia, vanillina, lievito per dolci vanigliato e la cioccolata, pure le gocce di cioccolata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio di semi, le uova, la vanillina, lo yogurt alla vaniglia, la pasta d'arancia che voi potete sostituire con l'aroma d'arancia, la farina ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 5. aggiungere il lievito ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. aggiungere il cioccolato ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 3. trasferire in uno stampa a ciambella da 24-26 centimetri. cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la ciambella è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. ciambellone stracciatella grazie e alla prossima ricetta ciambellone stracciatella grazie e alla prossima ricetta ciambellone stracciatella grazie e alla prossima ricetta